Proseguono in biblioteca ogni mercoledì fino al 19 novembre le conferenze della Croce Rossa italiana. Nei locali di Via Confienza è possibile anche visitare la mostra per i 150 anni dell'Organizzazione Umanitaria che comprende fotografie e manifesti d'epoca, uniformi, modellini di ambulanze, medicinali originali e anche una gavetta appartenuta a una croce rossina incisa da un compagno di prigionia in Germania.